Stamattina la città si è risvegliata con una triste notizia, la morte di un giovane che era stimato e ben voluto nel quartiere Santa Flavia, nella popolosa via Cardinale Dusmet. Walter Sanalitro, 31 anni, è stato trovato privo di vita dagli stessi familiari. Un gesto estremo, il suo, che ha gettato nello sconvorto non solo i parenti, ma il massiccio numero di amici che lo circondava. Ragazzo tranquillo, dal carattere mite, dolce ed educato. A quando pare, negli ultimi tempi, Walter non avrebbe attraversato momenti favorevoli. Una storia sentimentale tra alti e bassi e poi, come molti coetani e non solo in questa città, era alle prese con il problema della disoccupazione. Walter era rimasto senza lavoro da qualche mese, dopo anni e anni di impegno al servizio di diverse aziende del capoluogo nisseno. I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, sabato, alle ore 15, nella chiesa di San Biagio, in via Leone XIII.